E' partita la denuncia alla Procura della Repubblica. Questa è la quarta volta che torniamo in Cassazione per il processo di inquinamento, sono passati 11 anni. C'è un altro filone d'inchiesta che è quello per un omicidio colposo, è uscito fuori da una perizia disposta dal Tribunale. La morte di 200 adulti per lucemia sono da debitare esclusivamente a Radio Vaticana e 20 bambini, anche questo, sono esclusivamente a carico dell'esposizione elettromagnetica di Radio Vaticana. Noi chiediamo innanzitutto che le istituzioni si rendano a carico del problema. Non è possibile che un caso così eclatante venga messo sotto le coperte e taciuto per così tanti anni solo perché l'imputato è eccellente. Significa salvaguardare la salute dei propri cittadini che è proprio l'elemento di base in uno Stato civile. E poi penso che il diritto alla salute è un diritto fondamentale. Ci sono le evidenze scientifiche, corriamo questo rischio. La Radio Vaticana sta ancora lì. Ci sono altre tecnologie, potrebbero togliere quei tralici che emettono con una potenza in mane per trasmettere il segnale della Radio Vaticana all'altra parte del mondo e optare per un sistema tecnologico più avanzato. Questo chiediamo.